ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi vista la grandissima concentrazione nelle ultime settimane e poi negli ultimi giorni tanto presenti in rete tra annunci tra pubblicità anche di google pubblicità anche sui social ho visto pubblicità su instagram ho visto pubblicità su facebook su youtube stesso e video di youtube annessi ai miei video che trattano fotovoltaico oggi stanno lanciando a manetta il fotovoltaico da balcone questo perché perché delle multinazionali una grande multinazionale anche italiana che non faccio non farò il nome ovviamente perché non c'è nessuna collaborazione non mi pagano per fare pubblicità però dico se navigate andrete a vedere stanno appunto lanciando a tutto gas questi fotovoltaici da balcone e allora noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa il mio video era un po un video con titolo ironico quel video dove io dicevo questo coso ti permetterà di risparmiare tanti soldi bene è stato un video che vi è piaciuto ma perché perché era una novità era una novità mai sentita di un qualcosa che ti può fare risparmiare sulla bolletta ragazzi però nel concreto tutto ciò che sta nascendo dietro a questo fotovoltaico da balcone e dovete starne attenti perché sì è vero poco è meglio di niente però ragazzi bisogna anche vedere quanto poco oggi ci sono aziende che stanno inserendo dei kit ok customizzati cioè loro cosa fanno acquistano un pannello acquistano un inverter che ti permette appunto la connessione in rete e ti vendono questo kit pannello più inverter allora numero uno la potenza in uscita come abbiamo detto anche nel mio video di settimane fa è una potenza che varia in base dal pannello in base dal inverter poi numero due è consentito l'installazione e in un appartamento di un solo impianto e non deve essere un superiore agli 800 watt sotto i 300 se non ricordo male watt 350 watt non c'è neanche bisogno di fare una sorta di comunicazione sopra i 300 e qualcosa comunque andate a vedere il video che lo lascio sotto nel primo commento così avete tutto riassunto per per bene spiegato tutto appuntino lì bisogna fare la comunicazione che ti spiego anche io come fare in un altro video che ti lascio anche sotto in descrizione e anche nel secondo commento ma il problema ragazzi qual è che loro ora vendono questi kit spacciandoli per la salvezza dell'umanità spacciandoli per una soluzione che non ti farà pagare più bollette non è vero ragazzi non è vero e questo l'ho detto già in primissio nel mio video perché perché la potenza che un solo pannello ti può andare a sviluppare non è oltre i 350 360 360 380 400 watt in base al pannello che vai a prendere se prende un kit commerciale ragazzi loro utilizzano pannelli piccoli da 300 350 watt due pannelli potresti anche montarli andando a 700 watt però si parla sempre di potenza di picco potenza massima in base anche al tuo balcone dove è posizionato se è posizionato bene allora prendi tanto tanto sole tutta la giornata e allora avrai una percentuale in più di energia diciamo tra parentesi risparmiata se invece non hai il sole messo in buona posizione per esempio in una giornata di estate prendi forse un'ora e mezza di sole due ore di sole il pannello solo per circa mezz'ora 40 minuti al massimo della sua potenza ragazzi ma che cosa ne vale cioè per quanto poi costano per quanto poi se li fanno pagare anche se ora stanno andando a mettere degli sconti e stanno andando a mettere degli aiuti ecco per invogliare l'acquisto ma è sbagliato ragazzi perché perché loro non devono incentivare questi impianti da balcone loro dovrebbero invece fare diversamente perché numero uno per quanto ti costa un kit di questo è completo di tutto ciò che serve perché loro ti danno le staffettine ti danno il pannello ti danno l'inverter danno il quadretto dove andarlo poi a cablare nell'impianto di casa per quanto a costarti quello se tu sai dove acquistare puoi intanto metterti da parte questa cifra e poi con una differenza in più puoi andarti ad acquistare pannelli inverter tutto per un impianto più grande ragazzi cioè se noi realmente vogliamo risparmiare a casa vogliamo pagare poco e niente le energie elettriche il nostro impianto deve essere molto molto più performante se invece vuoi fare una cosa di moda vuoi andare alla moda hai quel balcone o non hai purtroppo una terrazza non hai purtroppo uno giardinetto dove mettere 5 6 7 8 9 10 pannelli e non hai un garage dove sovra posizionare ecco tutti questi pannelli e vuoi divertirti vuoi provare e allora ok perfetto sotto in descrizione vi lascio link ai pannelli se non lo sai io collaborativamente con un grandissimo produttore di pannelli sotto di lui ci sono moltissimi grossi brand nazionali perché in poche parole loro producono e poi l'altri cambiano le etichette cambiano i marchi ma il produttore è sempre quello grazie ragazzi a questa produzione noi salteremo tutti gli intermediari e vi farò andare direttamente ad acquistare dal produttore dal grossista lui vi fornirà pallet di pannelli solari fotovoltaici che possono essere da 30 pezzi da 40 pezzi in base poi alle potenze dei vari pannelli parliamo di mono cristallino qualcosa come poli cristallino per esempio 280 watt ragazzi a prezzi davvero bassissimi contattami sotto in email te la lascio qui sopra in descrizione e anche in sovra impressione sul video per una consulenza ti spiegherò come fare per accedere a questo grande sconto ti spiegherò poi come fare per pagare gli indirizzi e la consegna perché ovviamente consegna a casa tua tutto diciamo incluso in un prezzo davvero davvero ottimo poi un inverter te lo lascio anche sotto in descrizione se fai così allora ok ti passi il capriccio ti passi il vizio e hai montato il tuo inverter però ragazzi non sperate che risparmierete chissà quanto se vuoi fare la differenza prendi un buon impianto fotovoltaico pagato a buon prezzo segui i miei video perché ragazzi io sto andando su questo format o meglio io anche io personalmente sto lavorando per due miei impianti fotovoltaici da circa 7 kilowatt cada uno che poi più avanti andranno ampliati ad oltre 11 kilowatt cada uno e ho in progetto grandi grandi cose che non voglio spoilerare tutte oggi sto prendendo accordi con altri grandi produttori rivenditori internazionali anche per le batterie l'ifepio 4 anche per inverter ibridi che poi siano connessi o non connessi questo poi cambia dal vostro personale ecco interesse però io preferisco impianti ad isola i miei saranno tutti impianti ad isola e con batterie di accumulo ragazzi ripeto state attenti a questi impianti fotovoltaici da balcone perché si è una novità ragazzi come tutto ciò che è novità loro vogliono fare più soldi possibile non ci cascate ok mettete da parte i soldi informatevi per bene quanto può costarvi un lotto di 8 pannelli se tu mi dici ma io fox di 30 pannelli di 40 pannelli che me ne faccio forse ne posso usare 5 forse ne posso usare 6 ragazzi ve l'ho già detto nei passati video fate un ordine di gruppo li fate arrivare tutti in un posto per esempio a casa tua tuo zio tuo cugino ve li dividete e dividete anche le spese spedizione prezzo del pannello poi alla fine ti viene a costare pochissimo ragazzi per questo video è tutto spero sia stato d'aiuto mi raccomando occhio 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 attenzione iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ciao nel prossimo video ciao